I uniborsi che sono bellissimi Raga Oh Oh no Dai raga Sta uscendo Raga sta uscendo Non va a fuoco Sta uscendo Raga Sta uscendo Sì È uscito Ora proviamolo Cioè raga è bellissimo È bellissimo raga Ho comprato pure gli altri E fanno questo effetto ragazzi Viola Verde E rosso Ho comprato ragazzi Questi qua Ragazzi andate a comprarli Costano un euro Costano poco E ragazzi ciao